Ma ha ragione Nando quando dice che Roberto è stato amato, rispettato non solo dai suoi compagni attuali di sinistra anticapitalista ma anche da compagni di altre esperienze, di altre organizzazioni che hanno lavorato con lui. Ed è quindi io credo con profonda verità che ho porto il cordoglio di quei compagni, oramai devo dire pochissimi perché siamo un'altra generazione come organizzazione molto diversa, del Partito Comunista dei Lavoratori che l'hanno conosciuto e che ci hanno lavorato, quei pochissimi che vengono dall'esperienza di 20 e 30 anni fa e quei pochi che a Roma l'hanno conosciuto anche nei momenti successivi. Aggiungo qualche parola a titolo personale però sapendo appunto, ripeto, di esprimere i sentimenti ai compagni come Marco Ferrando, come Tiziana Mantovani. Mi spiace di non poter aggiungere il nome di un compagno che con lui certamente ha lavorato e scusate se mi commuovo per tutti e due perché sono due compagni che ci hanno lasciato anzitempo cioè Tiziano Bagarolo che è morto qualche anno fa anche lui in maniera diversa all'improvviso di un colpo al cuore ma molto prematuramente. Io aggiungo qualcosa appunto di personale. Io ho lavorato politicamente, sono stato nella stessa organizzazione con Roberto negli anni dal 1984 al 1994 per dieci anni. Eravamo la minoranza, io Marco, poi dopo Tiziano eccetera eccetera. E c'era un dibattito continuo. Direi fraterno l'amicizia che mi lega, penso, compagno Franco che è qui turigliato, ma che mi legava anche a Livio pur nel confronto molto aperto, molto alto, né significativa. Però tra i giovani a volte non è sempre così con i compagni più giovani. Devo dire che se c'è una cosa che ricordo è la correttezza piena, la fraternità nel dibattito di Roberto. Mi permetto di dire non solo di lui, qui c'è Daniela, qui c'è Fabio, lo voglio dire anche a loro perché le cose poi a seconda delle persone rimangono nel cuore, la correttezza anche nei conflitti e nei confronti politici. Ma con Roberto era un punto essenziale. E concludo raccontando un aneddoto che però secondo me è proprio significativo della persona. Da internazionalisti una delle cose su cui discutevamo era il Nicaragua. Va verso il socialismo, non va verso il socialismo, è un movimento piccolo borghese, eccetera eccetera, fraternamente. E negli argomenti io dissi a Roberto, non mi ricordo se era in una riunione, in un dibattito personale a Milano o all'attere di un comitato centrale dell'LCR, e dice guarda che qui però queste posizioni, Livio, le ha sostenute anche per l'Algeria vent'anni fa e abbiamo visto che insomma com'è andato. L'importanza che aveva ragione, non mi interessa il concetto che pongo questa cosa. E gli dico, peccato che non c'ho più, l'avevo visto ma non l'ho mai avuto, un libro di Livio, L'Algeria e il socialismo, che se uno lo leggesse oggi, guarda che direbbe, ce l'avete ragione, questo era il mio argomento. Come si chiama? L'Algeria e il socialismo. Dopo tre settimane vedo Roberto che mi arriva col libro, con un vecchio libro, L'Algeria e il socialismo, me lo dà e mi dice effettivamente vi dà un po' di argomenti. Allora non è importanza che avesse ragione, era la correttezza, l'onestà, a parte l'amore per i libri. Si è andato a cercare il libro che gli avevo citato e non se l'è letto lui. Me l'ha portato per dirmi, magari ti serve per la tua battaglia politica contro le mie posizioni all'interno dell'organizzazione. Può sembrare una banalità, ma per me dimostra tutto quello che è Roberto. Perché credo, guardate, quando verrà la mia ora, spero ancora, ma con sempre minore speranza, dopo la rivoluzione socialista. La rivoluzione socialista ne resto convinto che sarà il futuro di questa umanità. Però forse sono ormai troppo vecchio per pensare di vederla almeno in questo paese. Ma quando verrà la mia ora, sì, uno può dire ha scritto, ha fatto. Ma se i compagni mi ricorderanno come una persona corretta, una brava persona e un buon compagno, io sarò felice, almeno. Lo sarò felice preventivamente, nella speranza, perché poi siamo a Atene. Ecco, io credo che se si può dire una cosa di Roberto, io per me gli darei questa definizione. Una brava persona, un buon compagno. E in questo senso, permettetemi, resterà, al di là delle divergenze, di organizzazione, di tutto quello che ci ha diviso, sempre in uno stesso ambito, però contro, diciamo, questa società, questo sistema, resterà anche nel mio cuore. Con tutto questo, ridò ancora, anche a nome del mio partito, le condoglianze più sincere alla sua famiglia e ai suoi compagni. Grazie. Grazie.